La nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova. Ci troviamo purtroppo a fare la cronaca di una guerriglia urbana, abbiamo sentito i nostri inviati, parlo anche di questa cronaca, questo è l'avoreo che sta portando tutti i miei ragazzi, hanno cercato i ragazzi che non sono sicuramente per la mia, e non ho sentito di questo valore, perché è un canto, comunque speriamo che vogliono tutti. E' un ragazzo, un manifestante, un po' di una vicina d'anni. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti in sala, benvenuti a tutte le autorità presenti, e ne sono molto lieto. La vostra presenza è per me estremamente importante e dà un'importanza non solo a me, ma a tutta Primo Canale, a tutti i dipendenti, a tutti i collaboratori, le altre 50 persone che collaborano e lavorano come dipendenti nella nostra azienda. e qualche mese fa, a marzo, ho pensato che fosse giusto ricordare quello che è stato il G8 per questa città, ma anche per il mondo della comunicazione. Primo Canale aveva un contratto ufficiale fatto con la Presidenza del Consiglio, ci tengo a spiegare perché noi eravamo così preparati durante il G8. Nel settembre del 2000, io andai alla Presidenza del Consiglio, Primo Canale in quel momento era azionista al 3% di Stream News, Stream News oggi è Sky TG24. Insieme ad altre 11 televisioni eravamo 12 emittenti, 12 emittenti più importanti del paese, Terrenorma in Puglia, Videoline in Sardegna, Terrenorma in Lombardia. Avevamo il 3% a testa, quindi un 36%, e avevamo quindi questo canale di informazione, partecipavamo dando i servizi da tutta Italia. L'evento del G8, che volle la città di Genova, fortemente il sindaco Pericu voleva cercare di avere un evento internazionale, e lo racconterà poi anche lui in questi docufilm, anzi, mi hanno corretto, non si tratta di docufilm perché non ci sono attori, è una docu-serie. Il sindaco ebbe poi questa grande proposta. La proposta nacque praticamente che in quel momento c'era il governo Amato. Guardate che questo passaggio è molto importante, da come è nato il G8 a come poi è arrivato e chi c'era quando il G8 ci fu nel luglio. La proposta che io feci, c'era una persona che mi aveva dato una grande mano a collaborare con la Presidenza del Consiglio, che era il dottor Mauro Masi, che è stato più volte segretario poi della Presidenza del Consiglio, anche direttore generale della RAI. Io dissi, si parlerà di tante cose al G8 di Genova, ma a chi pensa al nostro territorio, alle problematiche che ci saranno di traffico, ai treni, agli aerei, alle problematiche per tutti i cittadini che si potranno verificare. Non si pensava assolutamente agli scontri. Anzi, il G8 di Genova veniva pensato come una grandissima occasione turistica per questa città. Tant'è vero che io proposi di contattare i 500 più grandi media mondiali, di realizzare, produrre una serie di mini documentari, di clip che parlavano di Genova in italiano e inglese, che furono commissionati in buona parte dalla Camera di Commercio di Genova, di iniziare a inviare mensilmente materiale a tutti i media mondiali, in attesa del G8. Il grande sponsor fu la Wind. Addirittura io ho chiesi, visto che poi ho chiuso questo contratto con la Presidenza del Consiglio, ho chiesto a Wind di cablare il grattacielo e di portare fino a qui la fibra. Questo perché? Perché nasceva il primo grande sito internet che doveva parlare praticamente al mondo, anche da primo canale, e dai magazzini del cotone. Strada facendo però poi che cos'è accaduto? Il G8 è completamente cambiato e si è visto specialmente in quello che accadde a Napoli e in quello che accadde a Göteborg. Si capì che diventava una situazione molto seria e molto problematica, tanto che si era pensato addirittura di sospendere il G8 a Genova, perché si capiva benissimo che la situazione della città con i vicoli e con tutto quello che comportava un ordine pubblico estremamente difficile da coordinare e da portare avanti. Venne pertanto istituita la zona rossa. La zona rossa fu l'idea, tra l'altro il provveditore di allora che era Tullio Russo, fece in tempi di veramente record queste palizzate alte 5-6 metri, che poi si vedono un po' dappertutto, che praticamente cingevano la città. La città storica, sostanzialmente, proprio noi avevamo qua sotto le barricate e fino a quel punto potevano arrivare i manifestanti, oltre era assolutamente impossibile entrare. Non vi dico quando si è chiusa la città il primo giorno, la sensazione che proprio da questa terrazza c'era di un cambiamento radicale. Il silenzio che si sentiva intorno a noi era veramente qualcosa che faceva quasi paura. E non c'erano ancora i primi eventi che poi hanno caratterizzato purtroppo il G8 del 2001. Noi arrivamo fino a sette giorni prima facendo praticamente quello che ci era stato chiesto di fare, che era promozione. Intanto però vi fu un cambiamento importante. ci fu il cambiamento del passaggio alla presenza del Consiglio di Silvio Berlusconi. Io ho sempre avuto la sensazione che i giornalisti, tutti i giornalisti del mondo erano chiusi dentro i magazzini del cotone. Non ce ne erano fuori. Solo noi eravamo fuori, perché dovevamo essere fuori. Tanto che io, con una giovane direttrice di allora, avevo visto che scriveva molto bene al giornale Nuovo, io dico, tra virgolette, era un'abusiva del giornale Nuovo, perché scriveva dieci pezzi al giorno, però non l'avevano assunta. Le proposi di venire a lavorare a Primo Canale, un anno prima, più o meno, un anno e mezzo prima, e decisi anche di mettere direttore di Primo Canale. La tenevo sotto controllo, perché era molto brava. Anzi, siccome faceva spesso articoli un po' pepati, ricevetti spesso delle telefonate, ce l'avessi avuto a Bucci, oggi è un giornalista così, non so quante telefonate al giorno riceverei, ma comunque, chi è questa Lilli Gruber dei poveri, che poveri saremmo stati noi, che continua a fare articoli su questo, su quel, e così via? Ebbene, era Ilaria Cavo, che poi ha dimostrato, nei fatti, che meritava quella fiducia, che probabilmente da talent scout, io le diedi a quei tempi. Prego, prego. Arriva anche il presidente Totti, a cui tengo molto che, che tengo molto che ascolti quello che è un po' la storia di questo G8. Quindi, è molto importante però chiarire che quello che facciamo fu veramente organizzato nel minimo dettaglio. Noi già eravamo 40 persone, ma in vista di questo G8 così particolare, noi facciamo venire altre 40 persone da fuori. Arrivarono 20 tra tecnici e giornalisti da Stream News e 20 tra tecnici e giornalisti da Antenna 3 Lombardia e anche da alcune altre televisioni che hanno dato il loro contributo. Questo per dire che in questa sede eravamo 80 persone, alberghi prenotati, sala-ristorante dalla parte di là. Cioè, eravamo organizzati nel minimo dettaglio. Qui c'era lo studio televisivo e un altro studio televisivo lo facemmo ai magazzini del cotone, in un container proprio davanti all'ingresso dei magazzini del cotone. Ma siccome sono già andato molto lungo dalla regia, io non ho l'audio quindi non mi possono insultare dalla regia, ma direi di passare subito intanto a una prima clip. Così facciamo vedere qualche cosa delle immagini di allora, spiegando solo brevemente come sono composti questi queste otto puntate di queste otto docu-serie. Della durata di circa 12 minuti ci sono una buona parte di immagini storiche e una parte di interviste che invece sono state realizzate a personaggi di allora ma invece pochi giorni fa in questi mesi. Prego la regia di partire con la clip. Essere direttore responsabile in quel momento, in quella settimana di diretta non stop del G8 ha significato vivere un'esperienza irripetibile dal punto di vista professionale, dal punto di vista anche umano, della resistenza anche, ma soprattutto dal punto di vista della responsabilità. Parleremo delle vertice, parleremo dell'arrivo, ripetiamo un pochettino quali sono i momenti clou di questa settimana e adesso a proposito di vertice riandiamo ai magazzini del cotone dove è pronto per noi Dario Vassani. Ecco Ilaria, siamo ai magazzini del cotone e direi che questo è un po' l'aspetto mi sembra più tipico in questo momento dei magazzini del cotone e tutta la struttura. Nel G8 io ero responsabile della posazione dei magazzini del cotone che vuol dire la cittadella della stampa dove arrivarono colleghi da tutto il mondo e la prima cosa che mi viene in mente è lo stacco tra i primi giorni e il resto perché noi cominciamo una diretta dalla domenica prima andammo avanti per una settimana e all'inizio lì non c'era nessuno cioè si stava ancora finendo di costruire la struttura e noi rendevamo conto di quello che accadeva e c'era un'enorme sala per quello che riguardava la stampa scritta e poi erano stati innalzati tutta una serie di tendoni che seguivano la lunghezza dei magazzini del cotone per le televisioni noi eravamo più o meno a metà accanto avevamo Mediaset tanto per dire purtroppo devo interrompervi nuovamente perché devo dare la linea alla redazione che ci deve dare delle informazioni noi siamo anche tv di servizio dobbiamo dare informazioni ai cittadini per evitare Genova 2001 è sicuramente una delle esperienze professionali che mi hanno segnato più profondamente non solo perché ero molto giovane avevo solo 33 anni ma anche perché era la prima volta che noi avevamo l'opportunità di essere sulla notizia che tutti seguivano la notizia che tutto il mondo seguiva ed essere in parte anche la notizia stessa perché il lavoro che facevamo con Primo Canale fu quello di mandare in onda le immagini degli scontri delle violenze di tutti i disordini che funestarono quei tre giorni a Genova mentre tutto il mondo non riusciva a farlo con la nostra velocità con la nostra capacità per avere più informazioni possibili su dove si stanno svolgendo gli scontri Luca Russo Gianluca ancora incendi ancora fiamme questa volta la segnalazione arriva dai vigili del fuoco un vasto ero un giovane cronista e di quei giorni ricordo come Genova era davvero strana perché i giorni prima del G8 una parte della città si andava sempre più blindando con la presenza delle forze dell'ordine ma soprattutto con la presenza di queste grate che ci avrebbero poi impedito come cittadini di poter varcare la cosiddetta zona rossa questa è una parte di uno dei pezzi della docuserie che andrà in televisione a partire da domani diverse volte al giorno e verrà tutta messa sul sito internet sotto un banner che si troverà con la scritta G8 in modo che sarà visibile in tutta Italia anche oltre e comodamente on demand è stato sicuramente l'evento che ha cambiato la storia di Primo Canale che era già una televisione assolutamente votata al servizio e al servizio pubblico io mi ricordo perché l'anno prossimo tra l'altro avremo da ora in poi avremo tantissime cose da raccontarvi perché il 2 gennaio del 2022 Primo Canale compie 40 anni e io ne compio 45 di lavoro perché ho iniziato nel 77 con Radio Geneva Sound grande radio che aveva già ai tempi azionista era una società per azione aveva azionista il giornale nuovo di Montanelli che nella sua visione del futuro e del triangolo industriale aveva questo amministratore legato che io considero quello che mio padre sul lavoro che ha creduto in me quando avevo 20 anni che aprì le sedi del giornale nuovo anche a Genova e anche a Torino e pensava in New Media New Media era la radio e quindi comprò tre radio Milano Montestella a Milano Torino International a Torino e Radio Geneva Sound che era la radio più importante fatta da tre grandissimi imprenditori tra cui uno che lo ricordo perché non c'è più ed è stata la persona che mi ha introdotto nel mondo del lavoro che è Beppi Remondini però per dire quello era un giornale nuovo con dentro nel consiglio di amministrazione della radio c'era o Biazzi Vergani o Gianni Granzotto la radio quando è nata era nel momento massimo della città superavamo gli 800.000 abitanti quindi pensare che quando è nata Primo Canale grazie sempre a quell'amministratore delegato del giornale che se ne andò dal giornale nuovo e fece il gruppo televisivo che poi venne denominato Euro TV insieme a Parmalat noi partimmo direttamente nell'82 come televisione di servizio facciamo dopo poco tempo la prima messa di Papa Voitila che arrivava a Genova dove oggi c'è l'acquario e abbiamo le immagini le abbiamo trovate di Papa Voitila che arriva col cardinale Siri in quel in quel punto della città con Spadolini che lo riceve così come noi siamo stati la televisione ufficiale delle manifestazioni colombiane con 5 stand dentro e facevamo noi i documentari per l'ente Colombo 92 e qui sopra c'era l'insegna del 500 e qui Renzo Piano presentava le ambasciate di tutto il mondo il plastico dove c'era il plastico dell'Expo e poi si affacciavano lì fuori e faceva vedere che cosa era e dove sarebbe venuto fuori l'Expo ne abbiamo fatte molte di dirette quindi eravamo già una televisione votata al servizio però il G8 è stato perché c'eravamo solamente fuori noi questo è un dubbio che si siano voluti blindare anche i giornalisti per non far vedere che cosa accadeva fuori il mio contratto quello firmato con l'allora ambasciatore Vinci Giacchi che fu l'ambasciatore e commissario della struttura di missione del G8 che per fortuna ho ritrovato diceva che noi dovevamo invece dare continue informazioni alla città su che cosa accadeva in città e quindi oltre a questa postazione già molto importante ne mettiamo ad esempio con l'area studiamo dove passavano praticamente i cortei secondo appunto gli organizzatori e la questura e mettiamo un altro transito a corte Lambruschini questo altro transito che mettiamo a corte Lambruschini fu fondamentale perché ai tempi non avevamo i zainetti come oggi per trasmettere in diretta però avevamo inventato questo che il cameraman da dove era saliva su con l'ascensore andava là sul tetto di corte Lambruschini collegava il cavo e ci transitava le immagini in diretta senza dover ritornare qua quindi noi in 5-10 minuti avevamo le immagini per andare in diretta e un'altra più o meno dalla zona di Piazza Rossetti che di nuovo da qui per fortuna si vede molto bene quello che accadde è straordinario per noi giornalisticamente non per quello che è accaduto ovviamente alla mia città che amo infatti sono sempre qui qualcuno prefererebbe che fossi in un'altra parte ma io continuo a stare qui devo dire che quello che accadde è che ai magazzini di cotone tutti i televisori dei magazzini di cotone erano sintonizzati sulla RAI come ordine di servizio perché dava il feed a tutte le reti del mondo di quello che accadeva però noi fuori nel nostro container avevamo un maxi schermo se era stato un 40 pollici i tempi era quanto di più grande si trovava che trasmetteva le nostre immagini i vari giornalisti di tutto il mondo iniziarono a vedere le immagini dei scontri entrarono dentro e fecero un 48 dicendo togliete la RAI mettete primo canale e tutti i televisori di magazzini di cotone davanti a 5.000 giornalisti furono messi su primo canale quella cosa cambiò completamente io lo dico nella mia intervista anzi facciamola vedere forse ne esce giusto un pezzettino mi perdonerete se sono qua e vi faccio vedere solo un pezzettino ho detto brevissimo su di me ma poi invece vediamo altre cose vediamolo Davide allontanati dalla zona l'incolumità prima di tutto invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa Davide allontanati subito dalla zona in cui ti trovi cerca di allontanarti della crimoge avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca Laviola prima durante gli scontri ecco vedete vedete le immagini praticamente il camioncino delle forze dell'ordine e adesso salivano anche un'ambulanza da un'ambulanza a tutta velocità scantato e chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla presenza del consiglio al ministro degli esteri e ricevette telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale era un ordine non era una richiesta e per sapere cosa risposi bisogna guardare ovviamente la docuserie ma lo racconto che cosa risposi a chi mi ordinava in quel momento di sospendere la diretta cosa che Ilaria Massimo Saperdi il capo tecnico sanno ricordano molto bene però ecco al di là secondo me nel passaggio tra il governo Amato e il governo Berlusconi noi siamo diventati scomparsi cioè non ci si ricordava che c'era questo contratto con Primo Canale e quindi noi potremmo fare tutto quello che abbiamo fatto e cambiò radicalmente la storia del G8 guardate lo so per certo perché tra l'altro ebbi l'onore fu una cosa che mi emozionò molto di essere una delle 50 persone invitate alla stazione marittima con anche il presidente della regione che in quel momento Sandro Biasotti che ringrazio di essere qui alla cena all'ultimo cocktail con gli otto grandi della terra insomma vedete tutti otto insieme sicuramente non è una cosa che ti lascia indifferente specialmente come il mio pessimo inglese peraltro però primo canale ormai sapevano veramente tutti nel mondo chi erano e il presidente il G8 successivo si doveva fare in Canada e se non si fece in Canada e da quel momento cambiò la storia del G8 si andò a fare le montagne rocciose è perché si videro le immagini in Canada e dal Canada anche il sindaco di quella città chiamò il presidente dicendo non ci pensiamo nemmeno a fare il G8 qui trovate altre soluzioni e si dibatté proprio a Genova di come cambiare dove andare a fare il G8 successivo ricordiamo anche che avvennero cose estremamente particolari e che a Genova in quel periodo c'erano i missili Patriot sulla diga e il divieto di sorvolo e due mesi dopo ci furono le torre vennero buttate giù le torre gemelle quindi il G8 di Genova era entrato veramente in un momento storico dove era cambiato molto quello che noi abbiamo cercato di fare e che credo che oggi debba servire un po' a tutti per far capire che chi fa l'editore ha un lavoro estremamente complicato e purtroppo lo fanno in molto pochi provateci a pensare quanti sono gli editori che hanno esperienza cultura conoscono le problematiche e che quindi nel bene o nel male chiunque si può rivolgere all'editore oggi molto spesso non ci sono editori non ci sono direttori molto dell'informazione sui social molta informazione su piccoli siti viene fatta di copia e incolla molte amministrazioni pubbliche molte realtà non vogliono neanche più che ci sia informazione vogliono dare la loro informazione senza contraddittorio senza la mediazione giornalistica facendo e mettendo le cose sul loro sito molte realtà sparano numeri sui social incontrollati i nostri numeri sono certificati auditer e controllati dalla presidenza del consiglio vengono distribuiti anche contributi sulla base di quello audi web che è l'unica realtà realmente esistente non ce l'ha praticamente nessuno poi ognuno spara i numeri che vuole da soggetti privati a soggetti pubblici o addirittura come nel caso di autostrade dobbiamo ricordarci che questi soggetti sono controllori e controllanti ti dico io i dati che voglio perché Google Analytics me lo vedo da solo non è che lo vado a far vedere magari a chiunque oggi l'ingresso di tutti questi nuovi media noi una volta avevamo permettetemi di dirlo tra virgolette un potere enormemente superiore a quello di oggi e penso che abbiamo gestito sempre con grande equilibrio e che nel mio caso io faccio solo questo lavoro non sono come molti altri editori da grandi giornali a grandi televisioni locali dove magari fanno costruttore fanno un altro lavoro cioè qui noi facciamo esclusivamente questo lavoro se vogliamo oggi ci abbiamo aggiunto magari ecco qualche ricevimento a Terrazza Colombo qualche conferenza stampo qualche convegno però è tutto legato a quello e il costo nostro per gestire l'informazione con dipendenti con giornalisti professionisti con tecnici professionisti tutti assunti in regola e qualche freelance ma pochi è un costo enormemente elevato una volta le conferenze stampa chi le convocava aveva paura poi di entrare in conferenza stampa perché si trovava davanti giornalisti professionisti che facevano delle domande quando io le prime volte andavo delle conferenze stampa con Radio General Sound per fortuna poi c'era il giornale nuovo dietro vi garantisco che i giornalisti che c'erano dicono chi sei hai il tesserino sei iscritto non ti volevano far entrare oggi vengono convocate conferenze stampa siccome ci sono i ragazzini con il telefonino e tutto che vanno ovunque vengono convocate conferenze stampa dalle 10 mattina alle 3 del pomeriggio ma io ho i turni di lavoro cioè non viene più considerato e noi veniamo considerati a quella stregua quando invece noi per un servizio fatto nostro ci devono sette persone sette persone da quando si va a fare col cameraman il giornalista delle volte anche il fonico se serve a quando si torna c'è il montatore poi passa la messa in onda che fa la messa in onda del programma poi c'è il grafico che magari invece la va a mettere sul sito in un modo diverso sui soci però purtroppo manca la cultura ormai di quello che è la vera informazione che si faceva una volta il ruolo dell'editore il ruolo del direttore e che cosa sono e che cos'è la mediazione giornalistica che delle volte per l'amor di Dio si sbaglia e ci mancherebbe ancora che riuscissimo non avete idea quante notizie vengono gestite al giorno e quante richieste vengono fatte ogni giorno ora noi vogliamo continuare a fare questo lavoro come l'abbiamo fatto il G8 è un'occasione per ricordare a tutti che cosa è stato Primo Canale da quel momento abbiamo incrementato sicuramente in un modo enorme quello che è stato il nostro impegno per un'informazione di servizio pubblico penso che tutti sappiate che quando c'è poi un problema in onda c'è Primo Canale noi abbiamo un'organizzazione del lavoro che prevede che in caso di allerta lancione vengono sospesi i programmi scattavi la nostra interna emergenza il personale arriva e inizia a lavorare per le ore necessarie abbiamo fatto anche 72 ore di dirette con ascolti enormi però magari in quel momento non mandiamo neanche la pubblicità perché è troppo importante tra l'altro invece mandare avanti la diretta siamo parte integrante di questa regione e a volte vorremmo che ci venisse riconosciuto anche di più certe in realtà lo fanno molto bene certe in realtà meno quindi noi ringraziamo tutti ma più che altro vogliamo dire a tutti da oggi in poi noi continueremo e inizieremo anzi inizieremo una nuova linea di Primo Canale che è proprio questo obiettivo di fare delle docu-serie anche storiche e apre a tutta la nuova parte di Primo Canale che è una parte di Primo Canale Production che è una società di produzione che crea dei prodotti che possono passare su qualsiasi rete mondiale in 4K con prodotto tecnologico migliore esistente e questo per noi è la strada che andrà verso quello che accadrà tra l'altro nel 2022 2022 non è solamente non sono solamente i 40 anni di Primo Canale 2022 sarà un passaggio epocale sotto il profilo delle tecnologie che incideranno pesantemente nella comunicazione e parlo di due cose che poi avremo modo di approfondire prossimamente il 5G e il passaggio al digitale seconda generazione non sarà più tutto come oggi sarà molto molto diverso compresa la tipologia di televisori che vengono obbligati tutti gli utenti saranno obbligati a comprare quindi cambierà molto molto tutto il mondo della comunicazione noi stiamo lavorando su questo e per questo ci stiamo buttando molto su una produzione di altissima qualità io proporrei mi pare che ci sia ancora una pillola forse da mandare in onda e proporrei quindi alla regia di mandarla in onda poi chiudiamo velocemente i piani di sicurezza erano sicuramente non predisposti nei confronti di quello che sarebbe potuto succedere direi che quello che è successo a Genova ahimè è servito dopo per migliorare l'organizzazione di quelli che potevano essere le grandi manifestazioni di protesta non erano adeguati ma ne eravamo appena arrivati era un mese che eravamo lì se l'avessimo toccato avremmo corso rischi maggiori ma la chicca che le voglio dare qual è? quelle immagini tremende dove vediamo che bloccano su Corsa Italia senza dare via di uscita al corteo dei protestatari e che ha dato la miccia all'esplosione di atti di violenza molto forti di irresponsabili infiltrati dentro i manifestanti pacifici per fare quello che hanno fatto cioè la devastazione della città e poi quelle immagini di forze dell'ordine che scappano che corrono indietro sa qual era il motivo? il sistema radio che collegava le forze di polizia nella organizzazione dell'evento non era funzionato questa è una testimonianza appunto di Claudio Schaiola che in quel momento era ministro degli interni che ha fatto appunto pochi giorni fa e che fa parte della docu-serie che poi ha anche alcune altre parti primo canale ha fatto una scelta a quei tempi io quando tutti i giornalisti del mondo iniziavano a vedere le immagini mi iniziavano a chiamare e mi chiesero di comprarle la genovese avrei dovuto venderle ma forse ho visto un pochino più più lungo io ho detto no le prendete gratuitamente ma col marchio di primo canale beh dopo un po' mi chiamò un amico da Londra mi disse Maurizio non ci puoi credere c'è la BBC in onda col marchio di primo canale e così fu CNN Japan TV ZDF tedesca furono 80 televisioni nel mondo che che mandarono in onda le immagini di primo canale e anche la rassegna stampa di quei tempi fu una rassegna stampa estremamente positiva per primo canale faceva capire che quel fenomeno glocal un fenomeno locale che diventa globale nessuno come noi lo aveva mai interpretato vediamo quindi ancora un attimo la rassegna stampa che sono alcuni dei pezzi significativi di quelle 2001 la diretta di primo canale fa il giro del mondo nel silenzio delle tv vince la rete locale la RAI perde la sfida della diretta anti-global piccole tv grandi dirette primo canale ottimo lavoro sul G8 minuto per minuto primo canale giorni di globo l'editore Maurizio Rossi una tv di notizie e servizi dai migranti al Ghir nipponico primo canale ci fa vedere tutto la tv che ha dato immagini alla CNN Genova via satellite record di ascolti per primo canale e quello che fu più importante e quello che penso di essere riuscito a fare come editore grazie anche al fatto di avere una direttore giovane che comunque mi ha ascoltato perché in certi momenti il senso di responsabilità io ho vissuto praticamente dentro la regia e quasi tutte le notizie importanti che arrivavano comunque prima devono passare da me porto l'esempio annunciare noi per primi la morte di Carlo Giuliani io decisi di non mandare in onda la notizia subito sapevamo troppo bene che i Black Rock avevano televisorini sintonizzati su primo canale forse l'avremmo potuto dare 5-10 minuti prima non mi interessava ho detto aspettiamo che la dia una rete nazionale però il senso di responsabilità di far sì che non peggiorasse la situazione che non andassero magari tutti in piazza limonda creando una situazione che probabilmente sarebbe stata ben più problematica e difficile sebbene la morte di una persona è sempre qualcosa che addolora tutti però questo è quello che deve fare un editore e ringrazio ancora oggi l'aria cavo di avermi ascoltato l'ultimo giorno quando ci fu il problema della Diaz io ero a cena qui sotto con Sandro via Zotti con l'assessore Gatti tra l'altro a te andò un boccone di traverso e per un attimo io ho pensato che ci fosse una tragedia veramente no non respiravi più e arrivò la notizia proprio da noi un'ilaria che mi chiamava e mi diceva c'è questa problematica enorme ci stanno chiamando tutti i cittadini cioè voi attraversavate la città e tutte le finestre si sentiva a primo canale e furono i cittadini a chiamarci per dire quello che stava accadendo alla scuola di Diaz infatti arrivò per primo uno dei nostri cameraman che fu quello che inquadrò la famosa immagine che comunque cambiò poi il processo del passaggio delle bombe all'interno del sacchetto noi non sapevamo di aver inquadrato questo lo dico molto chiaramente noi abbiamo fatto le immagini la procura può essere quest'ora tutte le immagini analizzandole capirono loro come quello che poteva interessargli noi anzi abbiamo fatto una cosa che fino a oggi è andata bene infatti ho detto ragazzi non dobbiamo rovinarlo oggi noi facciamo cronaca e continuiamo a far cronaca siamo riusciti a non essere criticati da nessuna parte allora e non voglio certo che lo saremo oggi quindi nei nostri docofilm non c'è una presa di posizione continuiamo a fare cronaca che è quello che penso sia giusto che faccia primo canale che non vuol dire delle volte non esprimere opinioni le mie sulle autostrade penso che siano note a tutti e e per la difesa la mia città io prendo delle posizioni perché sono convinto di determinate posizioni che andrebbero prese e anche magari più coralmente da tutti perché i nostri problemi sappiamo che li abbiamo tanti sono risolti tanti sono stati affrontati in un modo straordinario alcuni secondo me sono ancora invece appesi a un filo e non penso che tra tutti stiamo facendo tutto quello che si potrebbe fare per cercare di risolverli però quando diciamo un una qualsiasi persona su dieci cose ne fa otto bene se anche due non le fa come vorrei io è più che positivo il suo bilancio naturalmente secondo me deve accettare che abbiamo posizioni diverse su alcune cose mai premeditate contro nessuno questa è la linea editoriale non c'è mai una posizione personale contro nessuno c'è solamente come l'ho fatto anche quando sono stato cinque anni in senato uscito la scelta civica me ne sono andato nel gruppo misto dove ho potuto divertirmi a fare a prendere posizioni completamente diverse pro o contro governo ad ogni votazione ebbene io ho finito invito tutti a guardare questa serie e passeremo poi nell'autunno a presentarvi molte cose nuove è una nuova linea di primo canale e spero che sarà gradita sia a voi che siete qui oggi in sale sia a tutti i nostri ascoltatori un grande grazie va in rappresentanza di tutti coloro che hanno lavorato su questa produzione a tre persone che sono quelli che ci hanno lavorato più di tutti che vi prego di venire qua con me Elisabetta Biancalani che è la giornalista che è l'unica ancora dipendente di di quei tempi Edoardo Rossi che non ti rinascondere che che sia mio figlio è mio figlio e sono dietro che nel 2001 lui aveva un anno e l'avevo mandato in montagna con la mamma perché sapevo che sarebbero stati giorni molto difficili mi ha fatto molto piacere che lui abbia portato la sua professionalità perché tutte le interviste che vedete sono state realizzate da lui e sta dando una qualità tecnica molto molto importante all'azienda non so se sia molto adatto alla televisione ma sicuramente la documentaristica è adatto secondo me sì e poi a un dipendente nostro che da un anno ormai con noi ma che secondo me è di una bravura straordinaria che ha fatto l'editor e il regista mettendo insieme le parti moderne a quelle invece prese dall'archivio storico quindi grazie a loro grazie a tutti quelli che sono oggi a primo canale e a tutti quelli che ci sono stati in questi anni guardatevi la serie e poi se volete mandateci i vostri commenti buona serata a tutti la nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova ci troviamo purtroppo a fare la cronaca di una guerriglia urbana abbiamo sentito i nostri inviati parlo anche questa cronaca questa è la guerra che sta portando tutti i miei ragazzi hanno attaccato i ragazzi hanno attaccato i ragazzi con scolazia guardatevi Grazie three two three two two three four three Grazie a tutti.